Gli anticorpi monoclonali sono una categoria di molecole estremamente importanti, estremamente ampia e variegata che sta in qualche modo invadendo tutta la medicina ed in particolare l'oncologia e l'ematologia. Si tratta sostanzialmente di molecole che mimano gli anticorpi fisiologici e come gli anticorpi consentono sostanzialmente di riconoscere dei bersagli, quindi delle proteine presenti nel nostro caso sulle cellule tumorali con lo scopo di indurre la morte di queste cellule. Quindi sono interessanti perché possiamo scegliere noi, tra virgolette, quale target andare a identificare sulle cellule e abbiamo poi molti modi di sfruttare l'anticorpo per ottenere l'uccisione di queste cellule. Si possono sfruttare i meccanismi, tra virgolette, naturali, quindi l'eliminazione per mezzo delle sostanze, le proteine presenti nel nostro corpo, ma si possono anche potenziare con delle tossine che avvelenano l'aceto tumorale, con degli isotopi radioattivi o addirittura si può arrivare, come nel caso degli anticorpi specifici, a portare il sistema immunitario, portare i linfociti T contro la cellula tumorale affinché la riconoscano e la elimino, proprio creando un anticorpo che ha come due siti di riconoscimento che quindi avvicinano il sistema immunitario, riconducono il sistema immunitario contro la cellula tumorale. Abbiamo molti anticorpi monoclonali, alcuni sono già noti da molto tempo, molti pazienti che conoscono hanno usato il rituximab che ormai è presente ed addirittura disponibile come biosimilare, quindi come farmaco ad ampio utilizzo e questo si utilizza in tantissimi linfomi, in varie indicazioni e abbiamo delle molecole più moderne, più raffinate che hanno delle indicazioni un pochettino più specifiche, per esempio a breve arriverà una nuova immunotossina, quindi un farmaco che porta una sostanza tossica in uso in certi linfomi, un'altra immunotossina è disponibile nel linfoma diffuso ai grandi celluli in recidiva, quindi c'è tutta una serie di farmaci che si stanno rendendo disponibili sempre di più e in indicazioni molto specifiche, ovviamente non sono farmaci che vanno usati casualmente, vanno inseriti in delle strategie terapeutiche generalmente anche relativamente complesse, molto spesso in combinazione con altre molecole, alcune di vecchio concezione, altre di più moderne concezione, in alcuni casi anche come utilizzo come singolo agente. In ogni caso rappresentano le indicazioni sono appropiate sicuramente dei passi avanti considerevoli per il trattamento dei linfomi Hodgkin e non Hodgkin, soprattutto non Hodgkin oggi, speriamo che anche in futuro anche l'infoma di Hodgkin possa beneficiare di molti anticorpi, al momento ce ne sono solo un paio. Questi farmaci sono sicuramente importanti perché specifici e mirati, quindi in qualche modo dei farmaci che non sono dei killer, tra virgolette, aspecifici che eliminano un po' tutto, intossicano un po' tutto, ma vanno proprio a riconoscere in modo specifico la cellula tumorale, rendendo il trattamento di queste patologie più efficace e forse anche meglio tollerato.